Siamo qui a Firenze, a Baker Hughes, Nuovo Pignone, sono qui come Snam, ci sentiamo a casa perché Nuovo Pignone e Snam erano parte dello stesso gruppo. Come in passato stiamo innovando insieme un'altra importantissima tappa, per la prima volta al mondo stiamo sperimentando in una turbina di compressione a gas una miscela di idrogeno. L'idrogeno sarà il combustibile del futuro, potrà soddisfare 25% di tutti i fabbisogni energetici del paese, dell'Italia, e questa tappa è molto importante perché vogliamo miscelare idrogeno e metano come prima fase dello sviluppo di un'economia di idrogeno.